Rinascita Picentina propone al comune di Ponte Cagnano-Faiano l'istituzione del difensore civico previsto dal vigente statuto comunale. Il difensore civico funge da mediatore da ponte tra i cittadini e le istituzioni raccogliendo istanze e avanzando proposte per il bene e le esigenze della collettività. A raccogliere l'invito di Rinascita Picentina l'avvocato Clementina Tozzi che ha offerto la propria disponibilità a titolo completamente gratuito, aderendo a quanto richiesto e previsto dalla Lex Specialis Cittadina senza aggravi economici per l'ente. La figura del difensore civico ha radici storiche molto profonde e antiche perché già esisteva ai tempi dell'impero romano quando il defensor civitatis fungeva da tutore del popolo. Questa figura oggi è ancora prevista, tant'è vero che il difensore civico non è altro che un ponte potremmo dire tra il cittadino e la pubblica amministrazione. È una figura garante, è una figura imparziale che escevra quindi da qualsiasi impegno politico ma anche da rapporti con la pubblica amministrazione. Quindi non è altro che colui il quale recepisce le istanze e le doianze dei cittadini e le comunica alla pubblica amministrazione collaborando con essa affinché la pubblica amministrazione possa in qualche modo andare in conto alle esigenze del cittadino. La finanziaria 2010 ha abolito in molti comuni questa figura perché ha cercato di andare in conto a quelle che sono le esigenze economiche delle casse comunali. Tuttavia molti comuni che hanno e avevano la possibilità di utilizzare questa figura sia perché ne avevano la facoltà economica sia perché avevano la volontà hanno mantenuto l'istituzione di questa figura come il comune di Ponte Cagnano-Faiano. Io ho accolto con grande entusiasmo la proposta che mi è stata avanzata da rinascita a Pecentina perché credo che sia un momento essenziale e di grande importanza affinché questa figura venga rivalutata proprio nell'ottica di un intervento in un momento così triste a livello mondiale, un intervento di un soggetto che possa dare una mano sostanziale e quindi valida sia alla cittadinanza ma anche alla pubblica amministrazione. Grazie